E' il 16 settembre del 2007 e un MD-82 della One2Go Airlines sta per atterrare all'aeroporto internazionale dell'isola di Phuket in Thailandia. Le condizioni meteorologiche sono pessime e in continuo peggioramento. Per tutto l'avvicinamento l'aereo veniva scosso da forti venti e da piogge scroscianti. La pesante atmosfera che si respirava all'interno della cabina di pilotaggio ha portato i piloti a commettere una serie di gravissimi errori e approssimatezze che hanno segnato in maniera indelebile il destino di questo volo. Il disastro del volo One2Go Airlines 269 è stato molto più che un tra virgolette semplice incidente aereo, poiché è riuscito nel giro di pochissimo tempo a portare alla luce una serie di pratiche assurde e sconsiderate da parte della compagnia area stessa. Ed ha contribuito a mettere in cattiva luce l'intero settore dell'aviazione thailandese che già non godeva di un'ottima reputazione. Prima di proseguire, come in ogni mio video ci tengo a precisare di non essere un pilota o un esperto di alcun tipo ma solo un grande appassionato d'aviazione desideroso di raccontare queste storie. E senza ulteriori indugi, mettetevi comodi, allacciate le cinture e preparatevi per l'incredibile storia del volo One2Go Airlines 269. Come annunciato dall'introduzione è il 16 settembre del 2007 e ci troviamo all'aeroporto internazionale Don Luang di Bangkok in Thailandia. Anche per questo video vale la doverosa premessa delle pronunce dei nomi purtroppo. Sono circa le 2 del pomeriggio e i 123 passeggeri del volo One2Go Airlines 269 si stanno preparando all'imbarco a bordo del McDonnell Douglas MD82 che quel giorno le avrebbe portati fino all'aeroporto dell'isola di Phuket. Secondo le statistiche del 2019, l'aeroporto di Phuket è il terzo più trafficato dell'intera Thailandia, con oltre 18 milioni di passeggeri che vi hanno transitato. Essendo un'ambita destinazione turistica e destinazione di decine e decine di compagnie aeree dell'area asiatica, tra cui anche la One2Go Airlines. Nata nel 2003, la One2Go Airlines rappresentava il ramo low cost della compagnia tailandese charter Orient Thai Airlines. Aveva sede principale all'aeroporto Don Luang di Bangkok e serviva solamente due destinazioni domestiche alla Thailandia, ovvero gli aeroporti di Chiang Rai e Phuket. Per via delle sue ridotte dimensioni, aveva una flotta di appena 13 aerei, tra cui 4 Boeing 757-200 e 9 aerei della serie McDonnell Douglas MD80. Le abbiamo già visti in altri video su questo canale, gli aerei della serie MD80 hanno praticamente scritto la storia dell'aviazione civile. Nati come un'evoluzione a fusoliera allungata dello storico Douglas DC-9, per quasi quattro decenni hanno volato per centinaia e centinaia di compagnie aeree in tutto il mondo. In particolare, l'esemplare coinvolto nella vicenda di oggi era un MD82 immatricolato come Hotel Sierra Oscar Mike Golf. Fu inizialmente costruito e consegnato nel dicembre del 1983 alla compagnia statunitense Transworld Airlines ed era immatricolato come November 912 Tango Whiskey. Nel dicembre del 2001, per via dell'assorbimento della TWA da parte di American Airlines, passo in flotta proprio a quest'ultima. Ha volato con American fino a marzo del 2006 per poi passare nell'aprile del 2007 proprio alla One2Go Airlines. Ora, affidatevi che ci sarebbero da dire davvero un'infinità di cose sulle pratiche e le politiche di questa compagnia aerea, ma riprenderemo questo discorso più tardi. Per il momento mi limito a ribadire un discorso al quale già accennai nel mio video sul volo Lion Air 904 purtroppo. Ovvero che moltissime compagnie, soprattutto low cost e charter dell'area del sud-est asiatico, non godono affatto di un'ottima reputazione, in particolar modo dal punto di vista della sicurezza. Da quest'area del mondo sono uscite fin troppe storie di approssimatezza, scarsa manutenzione degli aerei, mancata adesione agli standard internazionali e anche di corruzione. E senza anticiparvi troppo, devo dire che la vicenda di oggi ha scritto una pagina particolarmente oscura della storia dell'aviazione tailandese. Anche se devo dire che al giorno d'oggi le cose sono decisamente migliorate anche solamente rispetto al periodo di questo incidente, che ricordo essere il 2007. Ma adesso è arrivato il momento di conoscere l'equipaggio della storia di oggi. Il 57enne comandante Arief Muliadi aveva alle spalle 16.752 ore di volo totali, di cui 4.330 sugli aerei della serie MD-80. Era senza dubbio un comandante di grande esperienza, con un passato a bordo di Boeing 737-200 e Fokker F-100 ed F-70. Il trentenne primo ufficiale, il cui nome non provo neanche a pronunciare, scusatemi, aveva alle spalle 1.465 ore di volo totali, di cui 1.240 sugli MD-80. Egli aveva ottenuto la sua abilitazione al volo di linea solamente il 18 dicembre del 2005, quindi aveva molta meno esperienza rispetto al comandante. La loro giornata lavorativa del 16 settembre 2007 sarebbe stata decisamente impegnativa. Avevano infatti in programma di operare ben 6 voli, essenzialmente 3 rotazioni complete, quindi voli di andata e ritorno tra Bangkok e Phuket, e ciascuna tratta avrebbe avuto una durata di circa 1 ora e 20 minuti. A fine giornata avrebbero accumulato un totale di 8 ore di volo, escludendo i tempi di turnaround che non vengono conteggiati, praticamente il massimo consentito secondo i regolamenti sia di compagnia che gran parte di quelli internazionali. Fidatevi, questo aspetto giocherà un ruolo davvero molto importante in questa vicenda. Oltre ai due piloti e i 123 passeggeri, vi erano a bordo anche 5 assistenti di volo, portando il totale delle persone presenti a bordo a 130. I primi due voli su 6 della giornata, quindi la prima rotazione completa tra Bangkok e Phuket, sono andati tranquillamente e non hanno avuto alcun tipo di problema. Durante i primi due voli il comandante era pilot flying, mentre il primo ufficiale pilot monitoring, mentre per il terzo, ovvero il volo 269, decisero di invertire questi due ruoli. Ora, è importantissimo considerare il fatto che nel mese di settembre, in Thailandia, le condizioni meteorologiche sono altamente instabili e poco prevedibili. Essendo altamente probabili forti improvvisi temporali e meteo generalmente avverso, l'equipaggio decide saggiamente di caricare molto più carburante di quanto necessario. L'aereo viene rifornito con più del doppio del carburante necessario per il volo, questo per far fronte ad eventuali tempi di attesa per il miglioramento del meteo. Ad ogni modo, intorno alle 2.15 le procedure d'imbarco terminano e i motori dell'MD82 vengono avviati. Poco dopo l'aereo inizia il rullaggio verso la pista e per le 2.30 tutto era pronto per lasciare Bangkok. I motori vengono impostati alla potenza necessaria e l'MD82 inizia la corsa lungo la pista. Vengono quindi ritirati carrelli e flap e l'aereo inizia così la sua graduale salita verso i 32.000 piedi di quota. C'è da sottolineare che in più occasioni durante questo volo il comandante, che ricordo essere Pilot Monitoring, quindi responsabile delle comunicazioni radio, sbaglia l'identificativo di chiamata radio dell'aereo. Generalmente parlando, questo errore non è troppo poco comune, nel senso che può tranquillamente capitare di confondersi con gli identificativi di chiamata utilizzati durante i voli precedenti, soprattutto se durante una giornata se ne fanno parecchi. Può però rappresentare allo stesso tempo un importante indizio di una sensazione di stanchezza presente nel comandante, ma non possiamo dire molto altro. Poco prima di iniziare la discesa verso Phuket, i piloti si accorgono che l'aeroporto aveva appena emanato un'osservazione meteorologica speciale, ovvero fuori programma rispetto a quelle regolari. Questo poiché le condizioni meteorologiche a Phuket erano drasticamente cambiate rispetto all'ultimo bollettino ed era fondamentale trasmettere questa nuova informazione nei piloti il prima possibile senza aspettare l'aggiornamento successivo. Sull'aeroporto iniziava ad addensarsi una copertura nuvolosa, vi erano forti piogge e il vento proveniente dalla direzione 270 gradi aveva un'intensità pari a 9 nodi, circa 17 km orari. Fortunatamente per i piloti la direzione del vento combaciava perfettamente con quella della pista sulla quale sarebbero atterrati, per cui non avrebbero almeno avuto problemi di crosswind o vento attraverso. Le condizioni meteorologiche, seppur non particolarmente terribili, rappresentavano comunque un importante indizio di una situazione in drastico peggioramento. Come già detto, in questo periodo in Thailandia è molto facile incorrere in improvvisi temporali, bisogna mantenere assolutamente l'attenzione elevata. Tutto sembrava procedere abbastanza tranquillamente e durante la discesa i piloti fanno richiesta in più occasioni di poter aggirare diversi temporali. Diverso tempo dopo, quando ormai non mancava molto all'atterraggio, il volo Orient Tai 2071, un altro aereo in avvicinamento a Phuket, fa richiesta al controllore di avvicinamento di poter eseguire una virata di 270 gradi. Probabilmente a causa dei cambi rotta per via del meteo, il volo 2071 si era trovato troppo in alto rispetto al sentiero di discesa previsto. Per questo motivo ha richiesto la possibilità di eseguire una sorta di orbita per cercare appunto di perdere quota. Questa non è una manovra particolarmente complessa, ma va sicuramente ad aumentare il carico di lavoro che grava sul controllore, poiché in questo modo si va a ridurre la distanza tra il volo 2071 e gli aerei che lo seguono. Per ristabilire l'adeguata separazione tra gli aerei, il controllore chiede al volo 269 di rallentare fino alla loro velocità minima selezionabile che non richiedesse l'estensione dei flap. Diversi minuti più tardi, con il volo Orient Tai 2071, ormai a pochi secondi dall'atterraggio, il controllore si rende conto che effettivamente erano necessarie ulteriori correzioni per aumentare la separazione. Per questo motivo chiede al volo One To Go 269 di portarsi momentaneamente su una prua di 160 gradi. Mentre l'aereo effettuava questo cambio di direzione, però il primo ufficiale, guardando il radar meteo, si accorge che in questo modo l'aereo avrebbe volato attraverso una zona molto instabile. Per questo motivo chiede al comandante di richiedere al controllore di poter volare su una prua di 180 gradi piuttosto che 160. La decisione viene approvata e in questo modo l'aereo prosegue l'avvicinamento. Finora tutto era piuttosto regolare ed anzi l'equipaggio aveva preso le decisioni più giuste. Alle ore 15, 36 e 21 secondi il volo Orient Tai 2071 atterra sulla pista 27 dell'aeroporto. Non appena usciti dalla pista, i piloti informano il controllore e quindi anche gli altri aerei in ascolto sulla frequenza, della presenza di Windshear in prossimità dell'aeroporto. Del fenomeno meteorologico del Windshear ve ne ho già parlato dettagliatamente nel mio video sul volo Lufthansa 2904. Essenzialmente rappresenta un rapido e improvviso cambiamento di direzione e intensità del vento. Può rappresentare davvero un grande pericolo per gli aerei in fase di decollo o atterraggio poiché va ad influenzare enormemente la velocità relativa all'aria dell'aereo. Per una spiegazione più dettagliata vi invito a recuperare il video citato prima, per questo caso in particolare non è essenziale scendere nei dettagli. Sappiate che il volo Orient Tai 2071 aveva riportato una variazione di velocità pari a 15 nodi, un valore sicuramente piuttosto importante ma che allo stesso tempo poteva comunque essere affrontato mediante le tecniche di atterraggio giuste. Tornando adesso sul volo One to Go 269, l'aereo era stabile sull'avvicinamento e venivano anche abbassati i carrelli e impostati i flap a 40 gradi. È comunque importante mettere in evidenza quanto il meteo fosse scoraggiante in questo momento, data anche la presenza del wind shear. Ricordate anche quanto detto all'inizio, l'equipaggio aveva fatto imbarcare una quantità extra di carburante proprio per fronteggiare questa evenienza. Sicuramente sarebbe stato più prudente mettersi in attesa del miglioramento delle condizioni meteorologiche piuttosto che provare un avvicinamento così improbabile. Ad ogni modo l'equipaggio decide di proseguire e il primo ufficiale presto scollega il pilota automatico. L'ho già sicuramente accennato in altri video ma quando si scollega il pilota automatico è buona pratica scollegare anche l'automanetta. Il sistema che regola automaticamente la potenza dei motori per far sì che l'aereo mantenga una data velocità specificata dal computer o dai piloti stessi. In condizioni meteorologiche di forti venti è ancora più importante scollegare l'automanetta. Il sistema automatico, soprattutto per quanto riguarda i motori JT8D degli MD80, non è particolarmente reattivo alle raffiche di vento. Per questo è così importante che siano i piloti a regolare manualmente la potenza dei motori in una fase così delicata del volo come l'atterraggio. Anche per questo motivo la fase finale dell'avvicinamento del volo 296 inizia a divenire piuttosto instabile. Il primo ufficiale inizia a combattere contro i forti venti e l'MD80 procedeva in maniera sempre più irregolare. Per darvi un'idea delle condizioni, il controllore informa il volo 296 alle 15-37 minuti e 31 secondi che il vento aveva provenienza a 240 gradi e intensità pari a 15 nodi. Neanche un minuto più tardi, alle 15-38 minuti e 27 secondi, il controllore ricontatta i piloti per informarli che il vento aveva praticamente raddoppiato la sua intensità da 15 nodi a 30. Per via di questo notevole aumento, il controllore chiede conferma ai piloti riguardo alle loro intenzioni di atterraggio e loro effettivamente rispondono in maniera affermativa. Appena 30 secondi più tardi, il comandante richiede un ulteriore aggiornamento rispetto alla situazione dei venti. È decisamente inusuale richiedere un ulteriore aggiornamento a così poca distanza dall'ultimo, ma ad ogni modo il controllore riferisce di un ulteriore aumento. Adesso i venti erano a 40 nodi. L'aereo scende sotto i 500 piedi, circa 150 metri di quota, ed inizia ad affrontare i rapidi cambi di direzione del vento che il volo 2071 aveva affrontato precedentemente. Per qualche istante la velocità relativa all'aria inizia ad aumentare e in tutta risposta i motori che nel frattempo venivano ancora regolati dall'automanetta riducono la loro potenza quasi al minimo. L'MD80 inizia a perdere quota con un rateo di meno 1800 piedi al minuto, un valore quasi tre volte superiore a quanto normalmente dovrebbe essere in questa fase del volo. Questa manovra di avvicinamento stava divenendo presto completamente instabile. Era questo il momento per iniziare una riattaccata. I piloti però decidono comunque di proseguire, e scesi sotto i 30 metri, la velocità relativa all'aria diminuisce drasticamente per via di un improvviso cambio di direzione del vento. Da circa 150 nodi passa velocemente a 126, un valore molto al di sotto della velocità d'avvicinamento stabilita. Il comandante si accorge di questo ed inizia ad esortare il primo ufficiale ad aumentare la potenza. In tutta risposta il primo ufficiale imposta praticamente la potenza massima possibile e l'aereo subisce una brusca accelerazione. Ormai erano scesi sotto i 15 metri di quota, la velocità aveva superato i 166 nodi, circa 300 km orari, e in cabina inizia a risuonare l'allarme di sync rate, ovvero di ratio di discesa eccessivo. È in questo preciso istante, con l'aereo che aveva iniziato a sorvolare la pista, che il primo ufficiale annuncia go around flap 15. Inizia quindi ad eseguire la riattaccata, tirando la cloche e facendo impennare il muso dell'aereo. Ora, la manovra è anche comprensibile, avrebbero anzi dovuto farlo molto prima. Il problema è quello che succede adesso. Senza alcun preavviso, del tutto improvvisamente, il primo ufficiale passa il controllo al comandante annunciando your controls. Sicuramente il comandante non era affatto pronto per questo improvviso cambio di ruolo, non era per nulla il momento adatto. L'aereo era ancora vicinissimo alla pista, e dato che il comandante aveva obbedito all'ordine del primo ufficiale di impostare i flap a 15, probabilmente non aveva ancora le mani saldamente sulla cloche. Ed è proprio in questo caotico e coincitato momento che il destino del volo 1 to go 269 viene definitivamente segnato. Vedete, quando si deve seguire un go around sugli MD-80, ed anche praticamente in tutti gli aerei Boeing, è necessario premere il cosiddetto tasto toga. Un pulsante che va automaticamente ad impostare la potenza massima possibile ed attivare la corrispondente modalità del sistema di automanetta. Durante il volo 269 però vi sono stati due eventi che hanno completamente compromesso la manovra di riattaccata. Innanzitutto il sistema di automanetta, una volta che l'aereo era sceso sotto i 50 piedi, era entrato nella cosiddetta retard mode. Modalità che si attiva in fase d'atterraggio per riportare automaticamente le manette alla posizione minima e quindi ridurre la potenza dei motori. Nella maggior parte dei casi questa modalità non si attiverebbe neanche, poiché appunto si atterra controllando manualmente la potenza dei motori, ma per qualche motivo l'equipaggio del volo 269 aveva deciso il contrario. Comunque premendo il tasto toga questa modalità verrebbe tranquillamente bypassata e i motori verrebbero automaticamente portati alla potenza massima di riattaccata. Purtroppo però il primo ufficiale dimentica di premere questo tasto. E nonostante egli avesse comunque impostato le manette alla potenza massima, il sistema di automanetta era ancora attivo ed era in retard mode, per cui tornarono alla potenza minima. Nella totale confusione di quel momento né il comandante né il primo ufficiale si rendono conto di questo problema. Avrebbero potuto tranquillamente rendersi conto della modalità dell'automanetta in uso leggendola sul Flight Mode Annunciator, un display che appunto indica ai piloti le condizioni attive attualmente del pilota automatico. Ma ovviamente in quella caotica situazione non se ne rendono conto. Il comandante, sicuramente convinto che il primo ufficiale avesse già premuto il tasto toga, continua ad inclinare il muso verso l'alto per cercare di far guadagnare ulteriore quota all'aereo. C'è anche da dire che avendo le MD-80 i motori montati in coda e quindi molto distanti dalla cabina di pilotaggio, non è sempre molto facile sentire il loro suono anche grazie ai numerosi rumori di fondo della cabina stessa. Può sembravi strano ma effettivamente molti piloti di MD-80 lo riferiscono. L'aereo raggiunge un massimo di 262 piedi, circa 70 metri, prima di iniziare a perdere quota. Dato che nel frattempo il primo ufficiale aveva anche ritirato i carrelli d'atterraggio iniziano a risuonare gli allarmi di prossimità al suolo. Il vento aveva anche spinto l'aereo fuori dalla pista e alle 15, 40 minuti e 11 secondi il volo One2Go Airlines 269 si schianta al suolo. L'aereo viene totalmente distrutto e dall'ala destra inizia a svilupparsi un enorme incendio. Nel disastro 90 dei 130 passeggeri hanno perso la vita, divenendo in questo modo uno dei peggiori disastri aerei mai accaduti in Tailandia. Analizzando i dati di volo e il registratore di cabina, le dinamiche dell'incidente divennero piuttosto chiare agli investigatori. Questo equipaggio aveva delle gravissime mancanze di crew resource management, ovvero di gestione delle risorse di cabina. L'abilità che i piloti devono sviluppare per mantenere sotto controllo la situazione in cabina, condividere informazioni e collaborare. Ciò che emergeva dal volo 269 era un equipaggio che non sapeva gestire una situazione quando questa non andava secondo i piani. Oltre che ovviamente una scarsità di conoscenza dei sistemi dell'aereo, almeno da parte del primo ufficiale, fu soprattutto quel passaggio di controllo al comandante inappropriato e senza alcun tipo di preavviso che dipinse l'immagine dell'equipaggio del volo 269. Ma come preannunciato all'inizio, il volo One2Go Airlines 269 scatenò un vero e proprio terremoto per l'intero settore dell'aviazione tailandese. Tutto iniziò quando gli investigatori chiesero alla compagnia i dati relativi agli ultimi voli dell'equipaggio per capire quante ore di riposo avessero avuto e le ore di servizio. L'equipaggio del volo 269 non solo aveva lavorato per più ore di quanto dovuto, ma non aveva neanche le adeguate ore di riposo. E mica solo per il volo 269, per mesi e mesi delle loro carriere. Ovviamente però questo problema non era affatto isolato solamente all'equipaggio del volo 269, ma tutti i piloti della One2Go Airlines. E non solo, ricordate che One2Go Airlines è semplicemente il ramo low cost di Orient Thai e anche i piloti di quest'ultima avevano questo problema. Ma tranquilli perché abbiamo appena cominciato. Venne fuori che la direzione della compagnia pagava appositamente i piloti per volare fuori dei loro orari consentiti. E che le sessioni di addestramento venivano fatte con simulatori vecchi, con funzioni mancanti e del tutto fuori norma. Anche i proficiency check dei piloti, ovvero gli esami di verifica delle competenze, venivano svolti in maniera totalmente approssimativa, omettendo importantissime parti dei programmi e anche ovviamente il corso di CRM. Giusto per un riferimento, i ricorrenti corsi CRM dovrebbero essere ripetuti ogni 12 mesi, mentre il comandante del volo 269 lo aveva svolto l'ultima volta nel febbraio del 2001, quindi oltre sei anni prima dell'incidente. In generale la One2Go Airlines e la Orient Thai si rivelarono essere delle compagnie completamente marce. Sicuramente le compagnie se la cavavano piuttosto male in quel periodo dal punto di vista economico. Non avevano decisamente retto ai contraccolpi del settore dati dall'11 settembre e soprattutto localmente dallo tsunami del 2004 e il momentaneo crollo dei turisti in Thailandia che ne derivò. La paga dei piloti era decisamente scarsa rispetto ad altre compagnie, per questo motivo quelli con più esperienza preferivano assolutamente andare altrove. Per questo motivo nel 2009 la One2Go Airlines e la Orient Thai vennero inserite nella lista delle compagnie aeree bandite dall'Unione Europea. Certo, non avrebbero mai comunque volato in Europa, ma è un dato molto indicativo. Appunto vi finiscono anche compagnie che non hanno nulla a che vedere con l'Unione Europea, ma vi dà davvero una grande indicazione. Al di là della compagnia, gli investigatori scoprirono anche dei gravi problemi dell'aeroporto di Phuket. Scoprirono che l'aeroporto non aveva neanche un adeguato piano di risposta a un incidente aereo sul suolo aeroportuale. Infatti la risposta dei vigili del fuoco fu piuttosto rallentata e confusa, principalmente poiché non sapevano se dovevano intervenire la divisione aeroportuale o quella della città. Ma poi c'è anche una vera e propria perla che vi giuro mi fa morire dal ridere anche se non dovrei. In pratica gli investigatori decisero di analizzare i sistemi di rilevamento del wind shear in aeroporto. Sulla superficie aeroportuale vi trovarono sei antenne o comunque i dispositivi che sono pensati per questo compito. Bene, vi ricordo che questi dispositivi sono pensati per essere in funzione principalmente quando il meteo non è buono. Vi giuro che non ho idea di come abbiano potuto pensare che fosse una buona idea, ma questi dispositivi erano alimentati ad energia solare e per questo tre di loro non funzionavano quel giorno. Ragazzi questo è geniale davvero. Io pagherei per vedere la faccia degli investigatori quando scoprirono questa cosa. È incredibile. Davvero non devo dire altro. Le raccomandazioni e i cambiamenti che uscirono fuori da questo incidente sono piuttosto ovvi direi. L'aeroporto di Phuket fu riadeguato e dotato di sistemi più consoni. La qualità degli addestramenti in One2Go Airlines doveva assolutamente migliorare, ma non ce ne fu il tempo. Nel luglio del 2010 la compagnia fu completamente riassorbita in Thai Orient e quest'ultima nel 2018 dichiarò bancarotta. Permettetemelo di dire, e non penso di essere l'unico a pensarlo, ma per fortuna. Questo è tutto quel che ho da dire sul volo One2Go Airlines 269. Questa triste vicenda mette in evidenza come cancellare la cultura di sicurezza in una compagnia aerea significa praticamente cancellarne il futuro. E seppur la stragrande maggioranza di compagnia aerea a livello mondiale abbia standard di sicurezza elevatissimi, è comunque vero che esistono queste melemarce. Anzi, è notizia di qualche giorno fa, e me l'avete anche voi stessa segnalata su Instagram, che Aeroflot, la compagnia di bandiera russa, ha chiesto agli equipaggi di non segnalare eventuali malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza a bordo. Ovviamente per via delle sanzioni e la scarsità dei componenti di ricambio. Leggere questo lascia davvero senza parole, non so neanche bene come commentare. Ad ogni modo ribadisco quanto detto prima e vi invito a dare un'occhiata alla lista delle compagniere bandite dall'Unione Europea per farvi un'idea di cosa significa davvero una compagnia a poco sicura. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che pubblico. Noi ci rivediamo al prossimo video!